Un aumento medio del 26% sulle bollette Tari e quanto emerge dai costi del servizio rifiuti approvati ieri sera dal Consiglio Comunale di Battipaglia. Il piano finanziario infatti è passato dai 10.230.000 euro del 2018 agli 11.900.000 euro attuali. Incremento legato all'aumento delle tariffe imposto da Ecoambiente per il conferimento dei rifiuti nello Stir, alla gestione delle discariche provinciali e ai costi per lo smaltamento dei rifiuti. Come mai una raccolta differenziata che lui dice in aumento, stiamo 7-8 punti in meno a dove eravamo partiti nel 2013 e quindi se c'è questo incremento non ho capito dopo l'avviso, e l'aumento del costo del trasferimento del Tarquale allo Stir che è un aumento di oltre 500.000 euro, non riesco a capire, al di là che saranno sicuramente aumentate le tariffe, ma non può essere tutto implementato dall'aumento delle tariffe, mi sembra una contraddizione nei termini, se paghiamo di più lo smaltimento allo Stir vuol dire che raccogliamo di meno e differenziamo di meno dell'uno l'altra, una parte sarà stata sicuramente l'aumento della tariffa ma l'altra è la scarsa capacità della raccolta differenziata.